Partiamo con la base. Dopo aver pulito e idratato la pelle, prima di partire con il fondotinta VOR, utilizziamo due fondotinta fluidi per Silvia e in particolare utilizziamo Golden Skin 2 e Golden Skin 3. Procediamo con Golden Skin 2 partendo da quello che è proprio il triangolo più chiaro che dobbiamo mantenere su Silvia, che è appunto la zona occhi e guance. Ecco qua. Per completare andrò nella zona di sotto proprio con un pennello ormai semisporco solo a ultimare il freddo. Che no! Dopo l'applicazione del fondotinta l'unica cosa che vorrei aggiungere sono dei punti luce, quindi andiamo a prendere dei nostri neutralizzatori lo Special Yellow by Light e andiamo a collocare punto luce sotto le sopracciglia, nella zona perioculare, accanto alle ali del naso, sopra l'arco di cupido, punto della glabella, dorso del naso e un po' il mento. Grazie. Grazie. Grazie.